Daniele Cazzani di Samurai Giviganò, la visione univoca del cliente tramite diversi touch point, chimera o d'opportunità? Diciamo che è una grande opportunità che deve essere vissuta come una sfida per i retailer. Siamo sommersi di dati, abbiamo moltissime fonti di dati grazie anche all'omnicanalità a cui il cliente ci ha obbligato in qualche modo, ma dobbiamo portarle diciamo come un denominatore e saperle interpretare. Per questo è importante avere ben chiari prima quali sono gli obiettivi del business, sapere che tipo di informazioni ci servono dei clienti e quindi analizzare questi dati in quest'ottica. Non è importante scattare delle fotografie del comportamento del cliente che sbiadiscono rapidamente, ma avere dei cruscotti di analisi del comportamento del cliente sempre molto dinamici e che possono aiutare il management a prendere delle decisioni in modo sempre più efficace. Aggiungo anche una cosa, qui spesso non si fa molta attenzione, è che oltre ai dati transazionali dei clienti e a tutti quelli che qualitativi possiamo raccogliere attraverso diversi touch point, dobbiamo essere anche molto attenti come manager a tutto quello che accade al di fuori dei nostri negozi o dei nostri cruscotti con numeri. Dobbiamo essere attenti a leggere le ricerche sociologiche, cosa succede nel mondo delle persone, perché solo così possiamo portare delle opportunità all'interno delle nostre aziende. Guardare solamente i numeri può essere distraente, ma è comunque importante farlo nell'ottica che dicevo prima, quindi creare una visione, una cultura del dato all'interno dell'azienda, perché il dato è uno strumento importante per prendere decisioni, ma non le prende da solo, quindi è importante il contributo di tutti noi. Questa è la sfida che attende il retail di oggi e di domani sempre di più, un retail che non deve avere pure dei nuovi competitor Amazon, più volte citato anche oggi, ma che deve guardare al futuro con la capacità che ha avuto in passato di adattarsi e di cambiare. È una grande sfida, ma possiamo giocarla e possiamo vincerla.